Siamo con l'autrice del libro, Giulia Lombimegnero, perché oggi viene presentata per questa opera, Marietta Moschini, una donna contocorrente a Giannutri, ora nasce l'idea di questo libro e di cosa parla? L'idea di questo libro nasce da quando ero bambina, perché mia nonna mi raccontava sempre questa storia, in quanto lei era vissuta proprio nell'isola di Giannutri all'inizio del secolo e aveva conosciuto personalmente questa figura così straordinaria e particolare. Mi raccontava sempre di questa donna e io ne rimanevo affascinata come se mi raccontasse una delle sue favole. Poi questa storia era rimasta nell'ambito familiare, se non che un giorno sul settimanale Epoca uscì un articolo su Giannutri sulle sue bellezze e parlava anche di questa figura del suo innamorato Gualtiero Adami, però non ne parlava in modo tanto esauriente e quindi commentammo la cosa in famiglia e ci dispiaceva che questa figura era così ridimensionata. Mia madre mi disse perché non scrivi all'articolista e racconti com'è la storia vera. Lì per lì ero un adolescente e mi sembrava una cosa... non l'ho più fatto, insomma. Però questa voce di mamma ogni tanto me la sentivo e dicevo che era giusto rendere onore a questa figura così particolare. Certo serviva il tempo, il modo... Io l'ho trovato quando sono andata in pensione, quando si dice dare tempo al tempo, insomma, ci ho messo un bel po'. Questa è una storia che comunque fa molto riflettere, soprattutto sull'importanza che si deve dare, sul rispetto delle scelte altrui, e di non dare giudizi solo perché uno veste in un modo strano. Magari dietro questo vestire, questo modo di camuffarsi, c'è sempre una storia, a volte pure dolorosa. Quindi è un libro che è romantico, avvincente, ma fa anche riflettere. Apriela Sarracco, presente qui alla presentazione del libro di Giulia Lombimegnero, che ha definito una sua amica, quindi un libro davvero speciale con la storia di Marietta Moschini, una donna che ha rinunciato a una vita agiata per dedicarsi ad un mondo, diciamo così, diverso. Sì, la dimostrazione è che le donne sono in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. Mi fa piacere che oggi presentiamo un libro dedicato a una donna, in un periodo in cui si parlerà sempre più in questi giorni di donne. Ci stiamo avvicinando al 25 novembre, giornata che ormai è simbolo per la violenza contro le donne e più si parla di donne e meglio è. Oggi parliamo di una donna che ha rinunciato a tutto, dimostrando che si può vivere anche in un luogo appartato e trarne tutto ciò che ne deriva.